Musica 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 Ciao, io sono Stefano Ciao, ciao Ciao Stefano Io sono Andrea Piero Mattei Io sono Stefano Campetta Chitarrista di Alberto Capone Dalle percussioni Posso dire anche gli altri due Membri e mai termine più appropriato Michele Fucuzi sta alla batteria e Mattia Cozzi al basso Personalmente, vabbè, sono due mondi molto diversi Lo studio Mi piace, però i live Non c'è un paragone Musica Da una parte c'è gran rispetto Dall'altra non tanto Perché poi spesso La serata di inediti viene sostituita Da quella della cover band Appunto di Liga 2 Che è sicuramente di fare Quei 300 ingressi Quindi dal punto di vista degli organizzatori degli eventi Spesso c'è una spinta verso la cover band Dal punto di vista dell'artista Chiaramente c'è un po' una frustrazione Perché ci sono sempre meno date Perché sono sempre più cover band in giro L'esperienza più bella Beh, vabbè, sarebbe Puruffiano direi stasera Facciamo finta di essere sinceri Guarda, ti dico la verità L'esperienza più bella credo sia stata L'apertura del concerto degli Avion Travel Proprio in questo posto Nel 2001 Credo, 2001 Perché c'erano tantissime persone Per cui ho avuto la possibilità di conoscere Peppe Servillo Che è stato l'unico artista Che ho incontrato Con cui ho dato i miei brani Che mi ha telefonato a casa Per dirmi cosa pensassero di questo Poi loro come gruppo spalla sono fantastici Ha 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 Gli essi grandi gli altri quando Ma io personalmente non sto scherzando Te lo giuro Sto pensando se è mai successo mai Non è mai Non ho mai coccato facendo questa roba No aspetta, nel senso Non è mai successo che finiva un concerto E arrivava una donzella A raccontarmi delle cosi E non è che... Cioè la musica è ovviamente un film E la chiudo qua Però non mi è mai 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 successo Ma forse... Ma perché mi dicono che io sono... Sembro antipatico quando sto lassù Non lo so perché Però... E vedi me ne preoccupo molto Ma sentiamo l'opinione di Stefano In merito Che invece è l'esatto contrario di me Ma io... Vabbè loro lo sanno perché mi conoscono da anni Vabbè io ho trovato La mia compagna Che è anche la madre dei miei figli Facendo concerti In giro per mezzo a Europa La vogliamo salutare Ciao Saverio Ciao Ciao Diodina La verità è che non si cucca Cuccano quelli che fanno indie rock No 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 Che subisonica Quelli che c'hanno dentro un sacco piatto Pochi pei Allora... Quindi non noi Io... Sono favorevole al download gratuito E credo che i musicisti debbano campare di soli concerti Quindi... Esatto Che poi è la realtà dei fan Nel senso che... La maggior parte dei musicisti Adesso si è scoperto Adesso è stato reso pubblico Ma in realtà è così dato Tipo i Coldplay Che... Lamentano che... Troppi concerti Poveri Coldplay Anzi io vorrei fare... Facciamo... Non so... Una raccolta fondi Abbracciamoci tutti quanti E vogliamo... Io... 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 Io...